Buongiorno, benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema delle wrapper classes e in particolare di stringhe, di come vengono rappresentati i caratteri in C. Che cosa sono le wrapper classes? Sostanzialmente in un ideale linguaggio di programmazione ad oggetti non ci sarebbe necessità di avere tipi primitivi, tipo interi, caratteri, floating point, eccetera, ma ci sarebbero soltanto oggetti, oggetti che sostanzialmente racchiudono queste caratteristiche, queste informazioni. Per motivi di efficienza in Java è stato deciso di utilizzare invece dei tipi primitivi. Ecco, le wrapper classes sono il corrispondente, in termini di oggetti, dei tipi primitivi. Quindi sostanzialmente lo scopo di una wrapper class è innanzitutto incapsulare un valore che corrisponde a un tipo primitivo, quindi per ogni tipo primitivo avremo una particolare wrapper class che include quel tipo di valore. Definire una serie di metodi che permettono di fare delle conversioni. Visto che in Java non esistono le funzioni a sé stanti, ecco, il posto dove andare a mettere le funzioni che permettono di andare ad operare sui vari tipi primitivi è naturalmente la wrapper class corrispondente. E infine, i tipi wrapper per scelta di design sono definiti come tipi immutabili, ovvero una volta costruito un oggetto wrapper che include un intero, quell'intero resta tale quale, quindi non è possibile andare a modificarlo. L'attributo intero che sta all'interno della wrapper class è privato e non è presente alcun metodo setter. Quali sono i tipi primitivi? E le corrispondenti wrapper classes sono quelli elencati qua. Normalmente viene formato il nome della wrapper class a partire dal nome del tipo primitivo, semplicemente mettendo in maiuscolo la lettera iniziale. Ci sono un paio di eccezioni che sono char che corrisponde a character e int che corrisponde a integer. Gli altri seguono questa convenzione. Oltre alle wrapper classes abbiamo anche le stringhe. Le stringhe non sono esattamente le wrapper classes perché non c'è un tipo primitivo che corrisponde alla stringa, ma sostanzialmente permettono di andare a rappresentare un tipo molto utilizzato che è la stringa di caratteri, di cui parleremo poi tra poco. Un primo insieme di tipi wrapper sono i tipi wrapper per i valori numerici, quindi integer, long, double e float. Queste classi sostanzialmente forniscono una serie di metodi per le conversioni numeriche. In particolare esiste integer value, long value, double value, float value che sostanzialmente estraggono il valore intero, long, double, float dall'oggetto di tipo wrapper. Sostanzialmente si tratta di metodi getter che accedono all'unico attributo che sta dentro questi oggetti. Abbiamo poi il metodo toString che è presente in tutte queste classi e che sostanzialmente restituisce la rappresentazione stringa del valore che è presente dentro il wrapper. Infine è possibile utilizzare come metodi statici il nome della classe wrapper.valueof a cui passiamo una stringa e questo sostanzialmente permette di fare la conversione da una stringa a uno qualunque di questi tipi wrapper. Come funzionano le conversioni? Vediamo un esempio per quanto riguarda il tipo int e il corrispondente wrapper integer. Io posso passare dal tipo primitivo int all'oggetto integer utilizzando il costruttore, quindi new integer di i mi permette di andare a costruire un oggetto integer a partire da un intero. Il viceversa è possibile utilizzando il metodo int value. int value prende l'attributo int che sta dentro integer, lo estrae e ce lo restituisce e quindi faccio il passaggio inverso. È possibile da un oggetto integer ottenere la stringa corrispondente tramite il metodo toString dell'oggetto integer. Il viceversa, cioè passare da una stringa a un oggetto integer, è possibile utilizzando il metodo integer.valueof della stringa oppure tramite un costruttore di integer che riceve come parametro una stringa. Questo fa la stessa operazione e prende la stringa e estrae il valore numerico che sta al suo interno. Inoltre è possibile fare delle conversioni da int a stringa. In particolare, per convertire una stringa in un integer, posso utilizzare il metodo statico parsint chiamato sulla classe integer. Quindi integer.parsint di una stringa estrae il valore numerico che sta dentro la stringa. Viceversa, posso fare string.valueof di un valore intero per ottenere la stringa corrispondente. Abbiamo anche la possibilità di andare a fare delle conversioni tramite una classe che si chiama scanner che può essere inizializzata tramite una stringa e poi permette di chiamare una serie di metodi del tipo nextint, nextlong, nextdouble, eccetera che sostanzialmente estraggono il valore numerico dalla stringa. Scanner ha in più la capacità di andare a leggere non un unico numero ma tutta una serie di numeri per cui se io ho una stringa con tanti valori e li voglio leggere tutti, il next mi restituisce il prossimo elemento che si trova nella stringa. La conversione tra valori primitivi e valori wrapper è, abbiamo visto, un po' macchinosa nel senso che devo andare a creare un nuovo oggetto, new integer, oppure chiamare il metodo int value. Questa, diciamo così, complicazione ha portato la comunità che sviluppava Java a decidere di introdurre una nuova caratteristica che si chiama autoboxing, che è stata introdotta dalla versione 5 di Java e che sostanzialmente permette di convertire in maniera automatica da int a integer e viceversa e questo in realtà per tutti i tipi primitivi e le corrispondenti classi di tipo wrapper. Quindi io posso andare a sostanzialmente definire un integer e un int e posso semplicemente dire che j è uguale a i, il valore integer, più 5. Questa operazione, prima del Java 5 non era possibile farla, era necessario scrivere i.intvalue in modo da ottenere il valore primitivo e poi fare la somma. In maniera analoga posso scrivere i uguale a j più 2 invece di andare a scrivere new integer del risultato di j più 2. Questa operazione è decisamente più compatta, più facile da leggere, intuibile è necessario però fare un richiamo perché ovviamente queste due operazioni sono equivalenti ovvero il compilatore mi converte questo i uguale a j più 2 in i uguale a new integer di j più 2. Questo significa che comunque l'autoboxing richiede la generazione di un oggetto. La generazione di un oggetto normalmente è un'operazione che è costosa perché abbiamo visto che l'operatore new che cosa fa? Deve allocare la memoria, inizializzare gli attributi, chiamare il costruttore e poi restituire il riferimento all'oggetto. Quindi tutta questa serie di operazioni comunque viene fatta in maniera nascosta ma viene fatta e quindi è opportuno fare attenzione quando utilizziamo degli oggetti wrapper invece dei valori primitivi perché questo può portare a delle significative limitazioni in termini di prestazioni del codice. Vediamo a questo punto una serie di altre classi wrapper che permettono di andare a incapsulare caratteri e stringhe. La domanda a cui vogliamo rispondere sostanzialmente è come vengono rappresentati in Java i caratteri e le stringhe. Allora, se ricordate, quando abbiamo parlato di tipi primitivi e valori in generale abbiamo menzionato i caratteri che sono rappresentati in Java tramite blocchi di 16 bit che seguono la codifica UTF-16. In generale, quando abbiamo a che fare dei caratteri noi abbiamo la possibilità di utilizzare i valori letterali esattamente come in C quindi tra singoli apici e doppi apici utilizzando il backslash per andare a quotare i caratteri non stampabili. Dopodiché, Java definisce una serie di classi e tipi primitivi per andare a rappresentare i caratteri. Se vogliamo andare a rappresentare i caratteri da soli questi sono rappresentati tramite il tipo primitivo char oppure la classe wrapper character. Quando invece andiamo a rappresentare le stringhe ecco, non abbiamo nessuna rappresentazione basata sui tipi primitivi quindi, mentre in C esisteva il puntatore a caratteri o l'array di caratteri ecco, in Java questo non rappresenta delle stringhe. In Java abbiamo la classe string principalmente ma anche la classe string buffer e la sua variante che si chiama string builder. Iniziamo a questo punto a parlare di caratteri. I caratteri sostanzialmente sono rappresentati dal tipo primitivo char e dalla classe wrapper character. Questa, abbiamo detto, è immutabile quindi una volta che metto il caratteri non lo posso più modificare fornisce una serie di metodi di utilità ad esempio isLetter, isDigit, isSpaceChar che permettono di andare a verificare alcune caratteristiche quindi la classe di caratteri che stiamo trattando. Ci sono anche altri metodi di conversione ad esempio toolower e toolower che permettono di convertire il caratteri in maiuscolo e in minuscolo. La cosa però più importante da dire a proposito dei caratteri in Java è che questi sono non codificati in maniera standard con la codifica ASCII che è quella di default in C ma bensì tramite una codifica che è la codifica Unicode. Che cos'è Unicode? Unicode è uno standard che permette di assegnare un codice univoco a un carattere in sostanzialmente qualunque lingua che esiste al mondo. Sostanzialmente lo standard Unicode è composto da diversi componenti abbiamo una specifica generale che mi dà i principi i code charts che mi danno sostanzialmente la rappresentazione dei diversi caratteri e vari annessi che permettono di sostanzialmente dare alcuni dettagli e un database di caratteri che è sostanzialmente la base per qualunque persona voglia andare a implementare Unicode. Quali sono i concetti di base di Unicode? Sostanzialmente abbiamo il concetto di carattere che è un'idea astratta ad esempio la lettera minuscola I dell'alfabeto latino è un concetto che è chiaro a tutti noi alla lettera, a questo carattere, quindi concetto astratto di solito noi associamo istintivamente anche la sua rappresentazione grafica ovviamente sappiamo che dato un certo carattere non c'è un'unica rappresentazione grafica ma ne esistono tantissime per questo motivo in Unicode il carattere è distinto da un altro concetto che è quello di glifo che è proprio la rappresentazione grafica di quel carattere una collezione di glifi costituisce quello che in terminologia Unicode ma anche al di fuori viene chiamato un font quindi un font è una collezione di glifi ovvero una collezione di rappresentazione di caratteri oltre a questi tre concetti Unicode definisce un altro concetto importante che è quello di code point ovvero la rappresentazione numerica univoca di uno specifico carattere in Unicode questa rappresentazione sostanzialmente è una rappresentazione che varia da 0 fino a 2 alla 23 meno 1 è un valore che di solito viene rappresentato per essere leggibile nel formato U più il valore decimale il valore scusate rappresentato in esa decimale per cui ad esempio la lettera intera I è rappresentata da U più 0069 quindi il codepoint della lettera I è questo 69 esa decimale ovviamente usando 23 bit è impossibile andare a rappresentare tutti i possibili caratteri su byte che sono lunghi ovviamente solo 8 bit quindi è necessario andare a definire quella che è una codifica che permette di trasformare in maniera univoca codepoint in una sequenza di byte e anche il viceversa avendo una sequenza di byte ricavare il codepoint e quindi sapere quale carattere viene rappresentato Unicode definisce alcune codifiche alternative L'UTF32 che sostanzialmente prende i 23 bit della codifica di quello che è il codepoint li mette dentro un pacchetto da 32 bit ovvero 4 byte e sostanzialmente memorizza quello ovviamente abbiamo solo 23 bit su 32 utilizzati quindi abbiamo uno spreco in sé e inoltre vuol dire che ogni carattere anche quelli più semplici caratteri latini che normalmente nella codifica ASCII vengono memorizzati su un singolo byte in questa codifica richiederebbero 4 byte quindi grandissima occupazione di memoria per cui questa codifica è raramente utilizzata un'altra variante un po' più oculata in termini di uso della memoria è quella codifica che si chiama UTF16 L'UTF16 è una codifica variabile perché ovviamente se io ho 16 bit non posso rappresentare tutti i possibili caratteri Unicode per cui alcuni caratteri sono rappresentati da un blocco da 16 bit altri caratteri sono rappresentati da due blocchi da 16 bit Qual è il criterio che viene utilizzato? Allora sostanzialmente i codici da 0 fino a D7FF sono rappresentati su 16 bit 2 byte i codici ulteriori quindi da 1000 a 10FFFF cioè l'ultimo possibile carattere rappresentabile in Unicode sono invece rappresentati su 32 bit ovvero due blocchi da 16 o 4 byte in totale Quindi l'idea è che per una buona parte di caratteri sono sufficienti 16 bit per gli altri caratteri ulteriori invece ne uso 16 più 16 Anche qui c'è un certo spreco di memoria perché ad esempio per i caratteri normali dell'alfabeto latino normalmente rappresentati in altre codifiche con semplici byte qui vengono rappresentati da coppie di byte quindi ho un certo spreco di memoria La codifica che è sostanzialmente più compatta è invece quella che si chiama UTF-8 che è la codifica usata in maniera molto ampia per andare a memorizzare codici Unicode su file di caratteri Quindi se voi accedete a una pagina web ad esempio che è stata scritta con caratteri Unicode normalmente quella pagina web è codificata secondo la codifica UTF-8 Come funziona la codifica UTF-8? Sostanzialmente i codici da 0 fino a 7F vengono mappati direttamente sui byte Questa scelta è stata fatta in modo da avere una codifica che sia sostanzialmente ASCII trasparente ovvero la codifica ASCII che è basata su 7 bit ha esattamente gli stessi caratteri e le stessi code point dei primi caratteri 128 caratteri della codifica UTF Quindi se io utilizzo solo i caratteri che sono definiti dall'ASCII la loro codifica è esattamente la stessa in UTF-8 e in ASCII Normalmente quando ho invece più byte da codificare quindi valori con codepoint più elevati il bit più alto che qui non viene utilizzato va a segnalare la presenza di codifiche che richiedono più byte In generale buona parte dei codepoint non ideografici cioè che fanno riferimento a linguaggi che hanno alfabeti limitati quindi non usano ideogrammi sono solitamente rappresentabili su uno o il più due byte Vi faccio un esempio Il crattere E accentata che ha come codepoint C8 quindi U più 00 C8 quindi ovviamente è superiore come valore al 7F viene codificato utilizzando due byte che sono C3 e A8 Questa codifica sostanzialmente permette di andare a rappresentare tanti caratteri che invece non starebbero nei primi 128 e normalmente richiedono semplicemente due byte invece caratteri di alfabeti particolari che so, cinesi o indiani richiedono spesso più di due byte quindi sostanzialmente in Java la codifica che viene utilizzata internamente alla memoria è la codifica UTF-16 mentre la codifica che viene utilizzata per andare a leggere e a scrivere da un file normalmente è la codifica UTF-8 quindi Java è in grado di gestire più codifiche sostanzialmente quelli che sono chiamati set di caratteri in effetti in Java esiste una classe che si chiama char-set che permette di andare a rappresentare una codifica di caratteri e di gestire diversamente sostanzialmente questa classe ha alcuni metodi che sono default char-set che è il char-set di default su quella macchina attenzione spesso UTF-8 ma potrebbe variare in funzione del sistema operativo o di altri aspetti un metodo che si chiama forname che restituisce un oggetto char-set dato il nome della codifica e available char-set che mi restituisce un elenco di tutti i char-set che sono definiti su quella macchina disponibile i set di caratteri predefiniti sono quelli che vediamo qua US ASCII che è sostanzialmente la codifica ASCII che funziona su 7 bit ISO 8859-1 che è una codifica a 8 bit single byte nel senso che sostanzialmente ho 255 caratteri possibili che si chiama la ISO Latin numero 1 anche ISO Latin 1 come nome alternativo l'UTF-8 che è l'UTF-16 di cui abbiamo due varianti Big Indian e Little Indian seconda del tipo di architettura di processori su cui stiamo operando e poi c'è l'UTF-16 una volta che noi abbiamo un oggetto di tipo char-set abbiamo a disposizione due metodi decode di un byte buffer in un char-buffer ed encode di un char-buffer in un byte buffer che permettono sostanzialmente di andare a convertire una sequenza di byte in una sequenza di caratteri e viceversa abbiamo poi dei meccanismi che ci permettono di avere un oggetto coder o encoder tramite questi due metodi get decoder e get encoder questi sono degli oggetti che io posso andare a utilizzare passandogli un byte o un carattere per volta e andando a vedere qual è l'output attenzione quando utilizziamo codifica andiamo a leggere e scrivere da un file o da un qualunque sequenza di byte che noi vogliamo interpretare come caratteri perché è possibile che avvenga quello che si chiama un mismatch di codifica esempio tipico che probabilmente avrete già potuto osservare voi andando a osservare alcune pagine web allora torniamo al nostro carattere e accentato che abbiamo detto ha come codepoint c8 e che utilizzando la codifica otf8 viene tradotto in due byte che hanno come valori c3 e a8 il problema è che se andiamo a prendere la codifica iso 8859.1 che è quella standard per le sequenze di caratteri a singolo byte questi due byte vengono interpretati come la e con sediglie sopra e i due punti l'umlaut che ovviamente sono un po' diversi dalla e accentata viceversa quindi se noi abbiamo scritto usando una codifica unicode la e accentata su un file e poi lo leggiamo immaginando che invece la codifica sia iso 8859.1 quello che otteniamo è invece della e accentata questa coppia di caratteri viceversa se noi abbiamo scritto un file usando la codifica 8859.1 la e accentata che ha come valore e8 un unico byte questo valore quando viene letto immaginando che la codifica sia utf8 sostanzialmente è un carattere non valido il risultato qual è? che sostanzialmente spesso viene rappresentato con un punto interrogativo quindi questo simbolo che vediamo qua quindi è molto importante quando abbiamo a che fare con dei file o delle sequenze di byte che rappresentano dei caratteri andare a utilizzare la codifica corretta che sia ci sia corrispondenza sostanzialmente tra codifica e decodifica altrimenti possiamo avere questo tipo di mismatch avere dei caratteri fasulli che non sono quelli che sono stati effettivamente scritti originariamente questo è quello che riguarda sostanzialmente la rappresentazione dei caratteri molto spesso però noi non trattiamo i caratteri singoli ma andiamo a trattare delle stringhe di caratteri le stringhe di caratteri in Java sono rappresentate da un paio di classi che sono sostanzialmente string e string buffer esiste anche string builder ma vediamo velocemente non è molto diverso da string buffer qual è la differenza fondamentale tra queste due coppie di classi sostanzialmente string come anche le classi wrapper che abbiamo visto finora è sostanzialmente immutabile ovvero una volta che ho memorizzato dentro un oggetto string una sequenza di caratteri questa non è più modificabile in alcun modo mentre invece nella classe string buffer e anche string builder la sequenza di caratteri è modificabile quindi io posso andare a inserire degli caratteri modificarli estenderla concatenare eccetera come posso utilizzare queste classi iniziamo da string string è un modo molto agevole di andare a presentare delle sequenze di caratteri e può essere utilizzato in maniera molto più semplice rispetto al puntatore a caratteri che avevamo in C innanzitutto string può sfruttare l'operatore più che permette di andare a concatenare due string per cui se vi faccio this is più e concatenation quello che ottengo è la concatenazione di queste due string string l'operatore più ha anche la capacità di operare non soltanto tra due string ma tra una stringa e un qualunque altro tipo java sostanzialmente quando vede una concatenazione tra una stringa e un qualunque altro valore prende quel valore genera la sua rappresentazione stringa e effettua la concatenazione per cui io posso scrivere pi uguale a più 3,14 x uguale a più x dove x può essere qualunque tipo comunque io faccia questa operazione java sarà in grado di convertire x qualunque cosa sia in una rappresentazione di sequenza di caratteri e quindi fare poi quella che è una concatenazione una breve panoramica su quelli che sono i metodi principali della classe string allora abbiamo il metodo length che ci dà la lunghezza della stringa abbiamo il metodo equals che ci permette di andare a verificare che due stringhe effettivamente siano uguali in termini di contenuto ricordatevi che c'è una certa differenza tra l'uguaglianza in termini di contenuto e l'uguaglianza tra i riferimenti l'esempio lo vediamo qua se diciamo che h è uguale a hello w uguale a word h w uguale a hello word quindi la stringa completa h underscore w uguale a s1 più spazio più s2 a questo punto h w e h underscore w sostanzialmente sono due stringhe che contengono lo stesso insieme di caratteri per cui se noi facciamo h w equals h underscore w quello che otteniamo è true però essendo state costruite in maniera diversa le due stringhe sostanzialmente sono memorizzate in due oggetti diversi per cui h w uguale uguale h underscore w ci dà come risultato false abbiamo poi una serie di altri metodi tra cui ad esempio substring che permette di andare a ottenere una sottostringa o a partire da un indice oppure da un indice a un altro per estrarre un sotto insieme dei caratteri che fanno parte della stringa ricordatevi che questi indici partono da zero index of va a recuperare all'interno di una stringa principale la posizione come indice di una sottostringa index of parte dall'inizio mentre invece last index of parte dal fondo della stringa abbiamo poi value of che prende un qualunque tipo e lo converte in stringa di interi floating point eccetera e poi abbiamo il metodo format che sostanzialmente permette di andare a fare una formattazione che è sostanzialmente analoga a quello che avevamo tramite il metodo della funzione printf in c attenzione che questi due metodi sono statici quindi devono essere chiamati sulla classe stringa quindi devo fare string.value of e string.format qui vi riporto le conversioni che possono essere fatte sono sostanzialmente quelle analoghe alla printf in c non mi soffermo ve lo lascio qui come riferimento nella documentazione un'altra classe che è importante è la classe stringbuffer che è sostanzialmente analoga alla classe string ma a differenza della classe string è mutabile string è immutabile stringbuffer è mutabile quindi io posso andare a fare operazioni di modifica della stringa ad esempio il metodo append permette di accodare una sequenza di carattere una stringa a uno stringbuffer già esistente insert permette di andare a inserire una stringa in una certa posizione quindi sostanzialmente sposta in avanti una serie di caratteri e inserisce la sottostringa delete permette di andare a cancellare un intervallo di caratteri da un indice iniziale a un indice finale l'indice finale in questo caso è escluso reverse ad esempio permette di andare a invertire la sequenza di caratteri quindi se la classe se la stringa è palindroma sostanzialmente non succede nulla altrimenti il primo caratteri diventa l'ultimo e viceversa questi metodi sostanzialmente sono fatti in maniera tale da permettere quello che è la concatenazione per cui append insert delete reverse tutti hanno come ultima istruzione un return this quindi io posso scrivere stringbuffer punto append punto append punto append punto insert eccetera 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 la differenza tra stringbuffer e string come vi dicevo è sostanzialmente che queste operazioni che vediamo qua per lo stringbuffer modificano sostanzialmente il contenuto dell'oggetto mentre invece la concatenazione tra string che cosa fa crea un nuovo oggetto che è la concatenazione di due string esistenti questo cosa vuol dire vuol dire che in termini di prestazioni la concatenazione tra string è estremamente costosa andiamo a vedere questi due semplici esempi che partono da una stringa vuota e tramite un ciclo vanno a concatenare in questa stringa una serie di interi o meglio la rappresentazione stringa di una serie di interi da 0 fino a n quindi qui a ogni interazione s più uguale a i quindi s inizia vuota alla prima interazione i varra 0 quindi diventerà s vuota più 0 diventa 0 al secondo giro diventerà 0 1 0 1 2 eccetera 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 qui sulla destra vediamo la variante che utilizza invece stringbuffer quindi creiamo un oggetto stringbuffer vuoto e andiamo a chiamare il metodo append che accoda il valore termini di stringa dell'indice i il risultato sarà esattamente lo stesso ora se noi eseguiamo questi due frammenti di codice mettendo n ad esempio uguale a 100.000 quello che otteniamo è che questa variante che utilizza il più uguale quindi la concatenazione tra stringhe impiega circa 12 secondi quest'altra variante che utilizza stringbuffer impiega 2 millisecondi quindi sostanzialmente abbiamo tre ordini di grandezza di differenza quindi sebbene questa scrittura sia molto più semplice da leggere e intuitiva quest'altra è estremamente più efficiente per cui in generale attenzione quando andate ad utilizzare delle stringhe soprattutto se avete dei cicli annidati che vanno a fare tante operazioni di concatenazione oppure se avete del codice che le cui prestazioni sono importanti a utilizzare stringbuffer invece di string voi potete andare a scrivere la prima versione utilizzando le stringhe ma un'ottimizzazione fondamentale in termini di prestazioni può essere fatta ad andare ad utilizzare stringbuffer un cenno ora a quello che è invece la classe stringbuilder la classe stringbuilder è sostanzialmente compatibile in termini di metodi con la classe stringbuffer l'unica differenza è che non è thread safe e non è rientrante cosa vuol dire? vuol dire che se io ho più thread in esecuzione nel mio programma e entrambi i due thread cercano di accedere contemporaneamente allo stesso oggetto di tipo stringbuilder succede un patatrack mentre invece se cercano di accedere a un oggetto di tipo stringbuffer questo è in grado di gestire i due flussi contemporanei in modo che il contenuto del nostro stringbuffer resti coerente quindi la classe stringbuilder sostanzialmente toglie alcuni controlli alcune salvaguardie che invece sono presenti nella classe stringbuffer qual è il risultato? beh sostanzialmente che abbiamo un 25% di prestazioni in più nella classe stringbuilder rispetto alla classe stringbuffer attenzione questo è veramente è significativo il 25% ma rispetto ai tre ordini di grandezza che abbiamo qua cambia poco relativamente poco quindi se vogliamo al massimo dell'ottimizzazione possiamo andare a utilizzare stringbuilder invece di stringbuffer ma in generale se vogliamo avere una variazione significativa delle prestazioni quando abbiamo molte concatenazioni lo stringbuffer sostanzialmente è quello che è importante da utilizzare con questo sostanzialmente abbiamo chiuso la nostra panoramica iniziale ci sono ancora alcune caratteristiche e dettagli sulle stringhe su cui torneremo più avanti la nostra panoramica iniziale su come vengono gestiti i tipi wrapper in generale in java che cosa servono e come vengono gestiti i caratteri e le stringhe in java quindi tramite char utilizzando la codifica unicode utf16 in memoria utf8 quando andiamo a scrivere e leggere da file e come vengono gestite le stringhe ovvero principalmente tramite la classe string ma quando abbiamo la necessità di andare a fare operazioni intense e frequenti di modifica delle stringhe utilizzando possibilmente la classe string buffer o addirittura la variante string builder che è ancora più efficiente